Chiara Consonni, seconda nell'ultima gara in Cina, con il rammarico? Ma si può sempre fare di più finché non si vince, però dai, sono comunque contenta. La squadra ha lavorato benissimo oggi, ha tenuto chiuso sulla salita, mi sono trovata davanti, abbiamo cercato di mettere un po' pressione alle altre squadre, però sì, comunque è una buona gara e dai, il secondo posto che alla fine chiude un po' tutta questa stagione. Ci sei arrivata con una vittoria in tasca pochi giorni fa? Sì, sicuramente il morale era alto, le aspettative erano alte, però ogni sprint ha la sua storia e questa storia non si è conclusa nel migliore dei modi, però come hai detto sono comunque contenta del lavoro della squadra e di questa trasferta cinese. Tra tre giorni si sposa Simone e hai già scelto l'ambito? Già scelto, tutto pronto, mancano gli ultimi ritocchi, stasera tornerò a casa e poi prendo e vissaggiare. Colore? Lilla! Auguri a Simone, bocca al lupo a te! Grazie mille, un bacio! Grazie mille, un bacio!